Il Politecnico di Torino è un'università pubblica italiana, è il più antico dei tre Politecnici italiani, ha 160 anni di storia e opera nel campo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nell'architettura e nell'ingegneria. Il Dipartimento di Architettura e Design, che focalizza la sua attività nel campo dell'architettura e del design, sta intraprendendo da alcuni anni un'azione forte di internazionalizzazione, intraprendendo scambi con le migliori università del mondo e fra queste la Pontificia Università Haveriana di Bogotà, con la quale da quattro anni ormai stiamo lavorando assiduamente a progetti di ricerca, di didattica e di scambio con i rispettivi studenti. L'attività di scambio in particolare con la Haveriana è nata da un'occasione di ricerca, un progetto chiamato la cultura della ciudad, focalizzato sui problemi della città contemporanea, della sua crescita, della sua gentrification, della sostenibilità e della memoria. Sul tema della memoria in particolare la cultura della ciudad focalizza la sua attenzione lavorando sul patrimonio contemporaneo e storico della città e sui temi di riqualificazione e rigenerazione urbana. In quest'ambito abbiamo colto l'occasione di partecipare al concorso internazionale Solar Decathlon con Latinoamerica e i Caribe, un concorso nel quale la Haveriana si era già cimentata due anni fa ottenendo un importante secondo premio e quest'anno di nuovo abbiamo lavorato con la Haveriana e con Oxford Lux per presentare una proposta a questa importante competizione internazionale. Siamo arrivati al secondo posto assoluto e abbiamo ottenuto il primo premio in alcune categorie parziali di cui il Solar Decathlon si compone. Abbiamo realizzato con i nostri studenti, con i dottorandi e con dei giovani docenti un prototipo di abitazione autocostruita con sistemi di montaggio a secco e tecnologie povere che lavorano con i materiali del luogo e su questo frangente siamo riusciti a realizzare un prototipo di abitazione che oggi è montato a Cali ma domani sarà smontato e riproposto al Pozon, un quartiere di Cartagena che vive di alcuni problemi sociali e anche idrogeologici nel quale potremo sperimentare questo nuovo modo di abitare.